aaaah aaaah Carlotta ma il buono vengono ci farà? ma che fa? a che fa? ma non lo so non lo so Ma che c'è? Che c'è? O l'urso metto Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma allora fanno da un'esilazione Ma che bello! Ma che c'è? Tata? Che c'è? C'è il bambino? C'è il bambino? Dove c'è il bambino? No, non c'è il bambino? A presto? Il bambino? A presto... Il bambino? D'accordo? Il bambino? Il bambino? Il bambino? L'abbiamo... Multipli! L'abagno? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.